La raccolta dell'organico è un punto fondamentale della riuscita della raccolta differenziata perché praticamente nell'indifferenziato noi troviamo il 35% ancora del rifiuto organico. Quindi è essenziale per ottenere una raccolta differenziata più alta, più interessante dal punto di vista del recupero che la raccolta dell'organico venga diffusa e praticata da tutti i cittadini, nello specifico anche Genova. È un tipo di raccolta che sembra difficile ma invece è molto semplice. Basta avere alcune accortezze e si riesce a fare molto facilmente. Bisogna stare molto attenti al contenitore che viene utilizzato e soprattutto non deve mai essere utilizzato il sacchetto di plastica. Bisogna utilizzare i sacchetti biocompostabili, compostabili o anche di carta. Si possono trovare anche quelli del supermercato oppure anche quelli di carta che si possono recuperare dai frutti vendoli ad esempio. Un progetto molto importante che sta seguendo attualmente AMIU che continuerà per tutto il 2023 ed è cominciato nel 2022 è quello dei corsi di compostaggio. Sono già venuti in tre dei nove municipi genovesi. Dalla primavera cominceranno altri corsi relativi appunto all'autocompostaggio che è un sistema principale per la prevenzione dei rifiuti. Mi consegue quindi che AMIU ha investito molto in tutti questi aspetti, sia dal punto di vista proprio della promozione, della comunicazione verso i cittadini, in questo senso qua. Diciamo che a parte piccole accortezze, fare la raccolta differenziata dell'organico è un sistema molto molto semplice. Dalla casa nostra la raccolta viene portata nei bidoni e contenitori a marroni, dopodiché i nostri mezzi la raccolgono e dopodiché va verso gli impianti di compostaggio oppure dei biodigestori. E quindi da questi vengono trasformati in compost oppure materiale che poi viene riutilizzato. Grazie. Grazie.